Mi trovo a Vallo della Lucania presso Pizzeria Leden in via Curci per incontrare lo chef Franco Marini il quale ci parlerà dei suoi ultimi impegni in giro per il Cilento, per l'Italia e per il mondo. Diciamo che con Antonio e Giovanna collaboro già da prima del lockdown, poi c'è stato ovviamente quello che tutti abbiamo notato in questi due anni e c'è stata un'interruzione di collaborazione, però adesso abbiamo ripreso, loro mi hanno interpellato per fare una linea di fritto che propongono alla propria clientela diverso, quindi una linea particolare come una linea di dessert adesso stiamo facendo delle preparazioni che utilizzeranno sulla pizza perché fanno un'ottima pizza anche gourmet e in più stiamo facendo anche dei primi piatti dove a breve ci saranno anche questi primi piatti che loro proporranno quindi c'è questa collaborazione, diciamo, da qualche anno che adesso sta riprendendo. Franco, una delle specialità presentate qui? Sì, l'abbiamo fatto per una sorta di aperitivo carino che è un finto pomodoro dove c'è della ricotta di bufala, una terra di olive e una gelatina al pomodoro dove abbiamo fatto anche una versione gialla, quindi il pomodoro giallo l'abbiamo chiamato pomodoro mediterraneo dove ci sono gli ingredienti che noi usiamo qui, diciamo, nel Mediterraneo pomodoro, ricotta, olive, olio d'oliva buono e quindi questo si chiama pomodoro mediterraneo ed è un prodotto che potete trovare qui. E i tuoi impegni prossimi perché ti abbiamo seguito un po' sulle pagine social e non solo, in giro un po' in tutta Italia e non solo, anche nel mondo. Sì, c'ho una collaborazione con un gruppo alberghiero a Padova, un grande gruppo alberghiero, poi a Cava dei Tirreni con un'altra struttura, poi faccio delle microconsulenze, le chiamo così perché sono piccole a breve periodo e più corsi di cucina, pasticceria, eventi, eccetera, 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 sia in Italia che all'estero. Nel Cilento come collaborazione attualmente ho questa qui che sto facendo con Antonio e poi un'altra che per scaramanzia, diciamo così, ce ne sarà un'altra ma non la posso ancora citare, dai, giusto per una questione di scaramanzia. Noi continueremo a seguirti, ricordiamo anche i due libri, l'ultimo ancora che è in vendita. Allora, anche il primo è in vendita, il primo è Cuore e Mani e Mente e il secondo che è Pinù, che è in tutte le librerie oppure su Amazon, eccetera, eccetera, c'è tutti i portali dove si possono acquistare i libri e dobbiamo ancora in realtà promuoverlo bene, sempre per una questione di Covid, eccetera, 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 quindi ci saranno poi delle presentazioni per il secondo libro. Benissimo, allora l'ultima cosa, ci troviamo qui, un consiglio a tutti i telespettatori di venire qui. Io vi dico di passare perché c'è amore e passione, i proprietari sono davvero molto, molto propensi alla tecnica, all'innovazione, quindi al gusto soprattutto, quindi io vi consiglio di passare per degustare questi prodotti perché fanno veramente una buona pizza, oltre a quello che stiamo facendo insieme.